Ma che fai? Non si può bere il latte al supermercato! Ah! Ma come no? Sulla confezione c'è scritto aprire qui! Aprire qui! Guarda che oggi sono carine! Aprire qui! E io l'ho aperta qui! Sì, sì, aprire qui! Allora, con la spiegazione l'ha capita! No, no, l'avevo capita anche prima, però era forzativa la cosa! Aprire qui, proprio qui, in ospedale! Sì, dottore, come sta mio marito? Signora, sono desolato, purtroppo... Purtroppo non siamo riusciti a salvarlo! Mio Dio, ma è terribile! Posso almeno vedere il suo corpo! Come vuole, signora, però l'avviso, oggi non mi sono depilato! Meraviglioso! Questa funziona sempre! Sì, questa è stupenda! Stupenda, stupenda! Poi il dottore ti farà vedere! Ma perché il dottore si depia? Ma non lo so, era scritta così! Ma che vuoi da me? Va bene!